Questo pomeriggio mi sono molto divertito, in quanto sul canale 5 hanno riproposto Bianco, Rosso e Perdone, dove io facevo l'impegato ministeriale, furio che andava a Roma a votare insieme alla moglie Magda. Ma da allora tante acque è passate sotto i botti. Dopo Magda c'è stata Scilla, c'è stata anche Fosca, adesso sono praticamente rimasto da solo e con questo detersivo devo fare il bocato e quindi dovrò accendere anche la levatrice. Sono un professore universitario, mi chiamo Callisto Cagnato, in onore delle catacombe di San Callisto naturalmente. Poi ho un figlio severiano che piano piano sto educando per fare in modo di introdurre i piaceri del sesso. La sera non mi annoio davvero, in quanto dopo scena mi metto sul mio computer, sul mio pc e mi seleziono i film porno da vedere. Ad esempio Biancaneve sotto i nani, Il postino tromba sempre due volte, Cappuccetto rotto, tutti i film già visti. Speriamo che rinnovino il catalogo. Comunque, questo pomeriggio mi sono tanto divertito, il tempo mi è bollato in fretta. Quanto sono simpatico, un saluto a tutti e buon 25 aprile.